Musica Musica Ce l'ha portato domani, sono completi Musica 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 non so se ne so sbagliato non l'ho preso non so se ne so sbagliato 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 non 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 so sbagliato in modo da poter far partire i pacchi come dico sempre io ci sono sempre tante persone purtroppo in ritardo che comunque ci creano insomma un po' di problemucci però cerchiamo insomma ragazzi di migliorare cercate di essere anche voi puntuali, precisi per i pagamenti in modo tale che comunque così possano partire tutti i pacchi regolarmente allora ragazzi è preciso che siamo in diretta su due pagine facebook su tiktok e instagram e poi in registrazione andiamo anche su youtube quando poi finisce la diretta ciao ragazze buon pomeriggio è arrivato pacco grazie mie ho letto già diversi messaggini dove dicevano che sono arrivati tanti pacchi oggi allora palmeri maria filomena di una nuova iscrizione la salutiamo la signora benvenuta signora filomena buonasera intanto approfitto per scriverle come funziona un po' tutto ciao ragazze allora ragazze anche per oggi il sermone è finito io direi di partire per evitare di fare troppo tardi perché scherzavo prima che allungavamo i tempi abbiamo 20 outfit ma vorrei finirli in un orario decente proprio perché domani ci si alza presto e si riparte per una nuova giornata anche a me è arrivato il pacco perfetto ragazze mi fa piacere allora ragazze partiamo subito con il primo outfit di questa serata ovvero completo dimmi di no palmeri o palmieri palmeri maria filomena ok 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 si giusto giusto allora dicevo ragazze partiamo con il primo outfit di oggi composto da allora intanto voglio farvi vedere la collana che costa 13 euro e 90 ed è carinissima guardate che bellina leggerissima appariscente simpatica però leggera quindi non dà fastidio poi andiamo con questa casacca io la chiamerei twin set anche se in realtà è cucita ok quindi è solo una questione estetica sembra di avere un cardigan con il sotto ma in realtà in realtà vedete l'effetto è quello di un cardigan con la sua canotta ma in realtà è semplicemente una casacca alla farina no no ragazzi allora il costo della casacchina è 19,90 abbiamo quattro versioni che adesso vi vado a far vedere vi do anche le misure e poi sotto pantalone punto milano modello sportivo disponibile in sei colori anche questo molto comodo sia per il tessuto sia per l'elasticità e adesso vi vado a dare le misure le fantasie e quant'altro allora partiamo dalla casacca chiamiamola twin set anche se ripeto è un pezzo unico anche se sembra doppio allora da 130 fino a 180 centimetri seno e fianchi lunghezza 90 ovviamente la lunghezza 90 si intende quella dello spolverino diciamo chiamiamolo spolverino ok quindi la parte più lunga allora 19 90 abbiamo la fantasia numero 1 guardate ragazzi è grigia con questo pitonato la numero 2 invece andiamo su un blu scuro con immaculato all'interno poi la numero 3 invece che se non erro è nera con lo zebrato all'interno ah ragazzi dimenticavo di dire che è in lanetta la lanetta leggera ma non più la viscosa che abbiamo avuto forse qualche settimana fa e andiamo con l'ultima nera anche questa che è la numero 4 con immaculato sotto quindi il giacchettino è una lanetta leggera ok invece sotto la casacchina sembra una sorta di licra quindi 4 fantasie diverse 19 90 lunga 90 centimetri 130 180 seno e fianchi e 4 fantasie diverse andiamo con il pantalone nera amaculata per Sabrina Linarello eccola per te sabri che è la numero 4 la maculata nera ovviamente possono essere ordinate quindi ragazze se vanno via chiedetecene perché si possono ordinare tranquillamente sono nuovi questi capi allora poi andiamo con un pantalone un pantalone comodissimo qui parliamo di un tessuto punto milano che io adoro lo dico sempre a ogni diretta perché è comodo morbido veramente favoloso il prezzo ciao ragazze il prezzo è 19,90 come il twin set comodissimo laccetto in vita elastico taschine laterali e abbiamo a disposizione sei colori 80 140 di vita 120 170 sui fianchi e una lunghezza di 103 abbiamo questo ciao ragazze abbiamo questo bellissimo jeansato un celeste jeans un panna che noi avevamo abbinato con questa casacchina perché era particolare questo abbinamento vedete poi il nero che ovviamente non può mancare mai questo rosso bello un bel rosso acceso e in ultimo il verde militare e il marrone cioccolato e questo è proprio cioccolato dai questo è proprio quando lo vedi dici mamma mia la nutella questo è proprio lui non comincio con i colori sì 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 poi non ho fatto come non c'è la diretta perché non riescono a vedere la diretta aspetta che giro il link eccolo qua allora perfetto ciao ragazze buonasera a tutte scusate io non sto salutando nessuno non per maleducazione ma perché vedo scorrere i messaggi ma sto descrivendo il tutto allora ragazzi quindi ricapitoliamo un attimino quattro tipologie di fantasia per la prima casacca che io ho chiamato twin set in lanetta perché in realtà è cucita però l'effetto è quello di avere un doppio pezzo abbiamo quattro fantasie diverse poi abbiamo presentato pantalone sportivo punto milano come tessuto meraviglioso sempre 19,90 come la casacca disponibile in sei colori diversi un'ottima vestibilità perché come dicevo arriviamo a 140 di vita 170 di fianchi e una lunghezza di 103 senza il risvoltino ok intanto vado avanti con il prossimo outfit ah questa è la tuta con ok ah questo è il tessuto bellissimo questo è meraviglioso allora ragazzi invece qui ho un tessuto nuovo per quanto riguarda l'abbigliamento perché voi mi direte perché il tessuto che noi chiamiamo tessuto muta solitamente l'abbiamo sempre visto per quanto riguarda i giubbottini giacchetti vari eccetera invece quest'anno lo stiamo trovando su tanti capi in questo caso in questo caso abbiamo un completo tuta bellissimo guardate il modello particolare perché perché sotto abbiamo un pantalone palazzo tra l'altro bello lungo bello ampio un'ottima vestibilità sopra una felpetta sportiva aspettate che poso la casacca una bella felpa sportiva con tasche cerniera e cappuccio questo tessuto è meraviglioso ragazzi vedete come io come dico sempre è svolazzante guardate cioè è un tessuto particolarissimo come le mute le mute dei come si chiamano dei sub cioè praticamente quell'effetto là però è più sottile cioè non è rigido non è rigido ok ed è favoloso allora il prezzo del completo è di 44 e 90 e adesso vi vado a dire subito la vestibilità perché la vestibilità è molto molto comoda allora per quanto riguarda la felpa abbiamo da 130 a 170 di seno anche sui fianchi andiamo intorno ai 170 comodi e la lunghezza della felpa è di 75 per quanto riguarda invece il pantalone mi parte da 80 centimetri di vita e mi arriva a 150 sui fianchi parte da un minimo di 130 e supera i 170 anche abbondanti lunghezza addirittura 110 per tutte quelle persone che mi chiedono sempre pantaloni lunghi pantaloni lunghi ecco questo è uno di quelli ok allora i colori disponibili per questa maxi tuta tessuto ripeto particolare è un tessuto che noi chiamiamo muta abbiamo il grigio abbiamo il nero ciao Arezia buonasera a tutte ragazze poi il color biscotto guardate che bello anche così e l'ultimo colore questo meraviglioso celeste jeans guardate che spettacolo ragazze perché poi tra l'altro sembra rimanere questo tessuto anche un po' lucidino fateci caso guardate che bello questo celeste meraviglioso allora quindi completo 44,90 felpa con pantalone e andiamo a vedere le casacche che abbiamo appoggiato sotto a questo completo era la 1 vero quella che era o era la 2 no no eccola lì era questa ok allora intanto vi faccio vedere anche la collana ciao grazie che costa 16,90 guardate che meraviglia varie tonalità dal grigio lilla viola rosa prugna eccetera allora casacchina è una casacchina di filo manica lunga modello leggermente a pipisterello il prezzo è di 16,90 euro e abbiamo 7 fantasie allora vi dà le misure ragazze allora andiamo con il seno che mi fa da 160 a oltre 180 diciamo abbondanti fianchi mi parti da 130 quindi un po' meno ma in realtà tirando arrivano comunque intorno ai 180 centimetri la lunghezza 73 quindi sono anche abbastanza lunghe direi una lunghezza regolare allora le fantasie abbiamo la fantasia numero 1 guardate che bella sui toni del magenta la fantasia numero 2 sul blu la fantasia numero 3 sul color mattone la numero 4 andiamo sull'animali sul maculato e poi ancora numero 5 una fantasia floreale sui toni del verde la 6 guardate anche questa che carina ragazze e arriviamo e arriviamo all'ultima che è la numero 7 è l'innarello 4 l'innarello la numero 4 ovvero quella maculata eccola per te sabri perfetto allora ragazzi 16,90 la collana 16,90 anche la casacca varie fantasie abbiamo detto sono 7 una vestibilità bella grande fino a 180 sia di seno sia di fianchi e la lunghezza della casacca 73 quindi concludiamo anche qui il secondo outfit casacca con un po' di trambusso ma pacco ritirato con Isabella ok grazie Laura sì sì lo sapevo lo sapevo perfetto allora adesso invece proseguiamo con un'altra cosa molto molto bella attenzione ragazze perché qui andiamo su un abito guardate che bello ragazze particolarissimo veramente maxi tascone laterale con cerniera apribile tutto questo disegno laterale e anche nella parte dietro in più questo abito perché è un po' freddolosa perché già si trova in zone dove fa un po' freddo questo è già felpato ok molto bello allora il prezzo è di 29,90 e abbiamo a disposizione 4 fantasie intanto vi do le misure allora le misure sono da 130 a 160 di seno 160 fino a più di 180 sui fianchi e una lunghezza di 102 ok quindi diciamo la vestibilità tranquillamente può arrivare fino anche a un 56 anche 58 allora intanto ciao saletta vi faccio vedere la fantasia numero 1 che è questa meravigliosa un po' stile etnico guardate fateci caso molto molto bella sui toni del verde ah dimenticavo la collana invece colorata multicolor 19,90 poi fantasia numero 2 guardate ragazzi con fiori e farfalline guardate che bella poi fantasia numero 3 guardate anche questa qui molto molto particolari ragazzi questa è moda sono cose sfiziose nuovissime ripeto sono anche già felpate quindi a voglia belle invernali da utilizzare da adesso in poi e siamo arrivati alla numero 4 guardate che meraviglia ragazzi Terry Casarecchia voglio sapere le misure del vestito ok allora Terry 130-160 di seno da 160 a oltre 180 fianchi lunghezza 102 la vestibilità è ottima ciao Flavia numero 4 per me quindi la 4 è quella con il fiore eccola Flavia per te buon gustaglia una delle più belle guardate che sono tutte belle tutte quante a me piace tanto anche questa con il verde la prima allora la lunghezza l'ho detto la Terry Terry la lunghezza 102 non so se l'ho detto stai a vedere l'acqua me la so dimenticata grazie a te Flavia allora ok allora ragazzi ve le faccio rivedere un momentino quindi abbiamo la numero 1 con il verde con il disegno verde militare dietro stessa stampa poi la fantasia numero 2 con i fiori colorati e le farfalle ve la faccio vedere anche nella parte dietro poi la numero 3 ecco la ce l'ho in mano per Simona Venditti ecco la Simo la stavo facendo rivedere perché poi si possono ordinare sono bellissime per i casalecchia vuole la 4 la 4 ok allora quella con il fiore se va bene gliela ordiniamo Silvio il pantalone punto Milano lo trovo anche la prossima settimana Mary in teoria sì perché i pantaloni diciamo che si trovano più facilmente per un periodo un pochino più lungo rispetto magari a delle casacche a delle maglie colorate eccetera i pantaloni magari c'è più la possibilità insomma ok allora allora ragazzi quindi al momento mi è rimasto il numero 1 come fantasia e la numero 2 allora io intanto proseguo vado avanti con un altro outfit allora vado con eccoci qua allora ragazzi adesso invece abbiamo ciao Anto 42 abbiamo una maxi maglia ragazze bellissima un tessuto in lanetta molto morbido una maglia bellissima dal disegno perché guardate la particolarità intanto ha questa forma sotto più diciamo come posso dire circolare ok più corta davanti più lunga dietro bella svasata e anche molto ampia e poi un tessuto meraviglioso e dietro abbiamo anche questo dettaglio vedete questa apertura che poi non è che è aperta questa pants diciamo così sotto abbiamo abbinato questo pantalone nuovissimo felpato anche questo leggermente felpato con la richina davanti dal taglio dritto elastico in vita con l'accetto che è vero regolabile e taschine allora vi dico prezzi e tutto il resto allora partiamo ovviamente come sempre dalla casacca allora la casacca ragazze costa 24,90 come dicevo è un tessuto pesantone cioè comunque è lana ok 140 180 di seno oltre 190 sui fianchi perché come dicevo è bella svasata vedete è proprio bella grande bellissimo anche la lavorazione del tessuto ragazze poi davanti è lunga 70 dietro 89 guardate che meraviglia a proposito la collana invece che vedete oro e nera 18,90 euro guardate che bella questa casacca ragazze allora abbiamo sei fantasie e adesso ve le faccio vedere allora la fantasia numero 1 proprio questa che avevo in mano la fantasia numero 2 guardate particolarissima poi la numero 3 eccola sembra zig e zag la numero 4 che mi sembra come la 1 soltanto cambia il colore questa mi piace molto sì molto ciao Valentina e siamo arrivati alle ultime due ovvero la numero 5 che sembra quasi un maculato ok un po' stilizzato così e la numero 6 che come la 2 soltanto anche qui cambia la tonalità passiamo dal bianco a questo cammello come come base ti piace ti piace cammello ma è una cifra allora ragazzi il costo di questa casacca che ripeto è in tessuto pesante parliamo già di lana con questa bella lavorazione questa diciamo morbidezza anche nella parte dietro con questa pants 6 fantasie diverse 24,90 arriviamo da 140 a 180 di seno oltre 190 sui fianchi e una lunghezza davanti di 70 dietro addirittura 89,90 quindi belle abbondanti e molto larghe soprattutto nella parte bassa e concludiamo questo outfit con il pantalone allora dicevo il pantalone ha la richina centrale elastico in vita con l'accetto regolabile taschine ed è già felpato ok 90 136 di vita da 120 a 160 sui fianchi e una lunghezza di 102 il prezzo è 19,90 taglio classico dritto ok non a palazzo non leggings taglio dritto 5 colori disponibili ovvero il cammello che ovviamente guardate come si abbina benissimo con queste tonalità poi il tortura il verde militare e in ultimo il blu scuro e nero 5 colori diciamo colori base se vogliamo ok 19,90 pantalone felpato 24,90 la maxi casacca in lana bella svasata ok ah ok si 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 perfetto ciao Olvia buonasera ciao ragazzi allora io vado a far vedere qualcos'altro vado a prendere una di tuoi outfit e proseguiamo con ah si aspetta che mi voglio allargare poco poco si ma ti allargare eh me sto allargando me sto allargando ti voglio mettere un po' più comoda soprattutto vada oh la miseria ma ti aspetta pantalone nero la tua tuta è disponibile dica no si eh allora il pantalone nero ok per Flavia e la mia tuta è disponibile però la maglia ancora sta su un off il pantalone si lo facciamo vedere tra un po' allora pantalone punto Milano marrone ah eccolo il punto Milano di prima giusto Orvia eccolo qua quello da 19,90 perfetto ok allora ragazzi io sto lasciando tutto qua non sto andando di corsa perché lo so che è dopo cena e vi state vedo che tanti si stanno collegando ora allora ragazzi proseguiamo con un altro outfit molto molto bello ovvero felpa in velluto con cerniera tasche davanti cappuccio una vestibilità non esagerata nel senso che come se nel fianchi bella comoda senza dubbio però non lunghissime come tante che abbiamo visto in precedenza quindi questo per esempio è un completo molto adatto anche alla media vestibilità anche per una persona più piccina per una small ok allora felpa 24 e 90 pantalone stesso identico tessuto sempre in velluto a costine 19 e 90 e poi sono arrivati i dolce vita si l'abbiamo flavia ti ho risposto ho detto c'è nell'outfit però non subito tra un pochino arriva la mia tuta ok allora dicevo quindi qui invece abbiamo dolce vita felpati ragazzi questa settimana sono già arrivati i primi dolce vita felpati il prezzo è di 13 euro e 90 e poi abbiamo qui sopra doppia collana ovvero vedete sono due da 8 e 90 ciascuna e sono le nostre svaroschi allora partiamo dalla felpa ragazze ovviamente abbiamo diversi colori ma questi si abbinano si tutte si tra nella marrone ne sa o si va bene allora ragazze la felpa dicevo ha costini in velluto 24 e 90 130 160 seno e fianchi lunghezza 64 questo va proprio benissimo per chi non vuole le felpe quelle un po' troppo lunghe a mezza gamba ecc abbiamo come colori questo turchese no turchese questo ottanio il panna poi il blu scuro guardate che bello anche il marrone e ancora aspettate che le appoggio per che resano il grigio bello grigio e l'ultimo colore che è il nero ok quindi abbiamo sei colori disponibili per quanto riguarda la felpa passiamo al pantalone il pantalone il pantalone invece 19,90 il prezzo sempre bello elasticizzato di vita mi va da 100 a 140 fianchi mi arriva comunque intorno ai 140 lunghezza lunghezza 97 colori qui abbiamo il blu scuro il grigio il marrone qui avevamo il panna l'ottanio e il nero a me sembra che si abbinano tutti non mi vorrei sbagliare ma occhio vero? si sai sono giusti si 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 abbinano tutti ragazze se c'è qualcuno per esempio che vuole acquistarli separatamente si può fare se volete fare l'abbinamento idem perché i colori vedo che corrispondono perfettamente quindi non c'è problema allora andiamo invece con il dolce vita come dicevo il dolce vita questa settimana è arrivato nella versione felpata mentre avevamo quello in maglina la scorsa settimana il prezzo è uguale 13,90 le misure mi vanno da 140 a 180 di seno di fianchi lunghezza 75 abbiamo a disposizione il rosso bordeaux il grigio il torto ora questi sono i primi colori quindi diciamo piuttosto se vogliamo basici il nero pantalone blu per Olvia il blu eccolo ciao Eleonora fatto Olvia poi dicevo il bianco l'ottanio e concludiamo l'ultimo colore che è il blu scuro ok ragazze quindi anche sul dolce vita felpato abbiamo 3,6,7 colori disponibili ricordo ragazze che è felpato non è più quello della scorsa settimana in maglina ciao Eleonora buonasera a te ok quindi ragazze 24,90 la felpa 13,90 il dolce vita e 19,90 il pantalone sempre a costine sempre in velluto come la felpa abbinabile come colore perché ho notato che sono perfettamente uguali identici ok detto ciò vado avanti continuo continuo ragazze con un'altra cosa molto molto bella l'abbiamo fatta vedere anche ieri con i nuovi colori però dolce vita bianco e ottaglio per Maria Elena Salma eccolo perfetto fatto Maria Elena allora dicevo qui abbiamo una bellissima novità ovvero attenzione allora dimmi allora buonasera gentilmente blu e ottaglio dolce vita allora il blu dice no l'ottaglio lo dobbiamo ordinare perché è andato via poco fa e poi rosalba rossi bianco e ottaglio il bianco anche qua allora cacciato vuole l'ottaglio giusto? sì ottaglio poi c'ho rosalba rossi che devi ordinare bianco e l'ottaglio ok 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 e ci credo francese posso? avete qualche messaggino voi? no ok io non vedo nulla vado avanti allora ragazzi qui invece un'altra novità molto molto carina bellissima allora abbiamo un abito guardate ragazze a canotta vedete morbido in lana sopra il suo diciamo maglioncirno stile bolerino perché fateci caso è cortino solo per coprire come posso dire diciamo il seno fino ad arrivare al girovita bellissimo una cosa sfiziosa molto particolare questo completo ripeto due pezzi costa 29,90 ed è disponibile in quattro colori adesso vi dico le misure allora tenete presente che questo l'ha indossato tranquillamente anche Denise perché? perché l'abito sotto sembra tanto piccolino in realtà parte da 100 di giro seno e di giro fianchi ma in realtà arriva a 160 sia seno sia fianchi la lunghezza dell'abito è 124 mentre lo spolverino bolerino maglioncino sopra chiamatelo come preferite mi fa da 140 a 180 di seno perché come vedete rimane più larghetto lunghezza 52 ripeto perché mi viene da chiamarlo bolerino proprio perché rimane un po' più corto ok? guardate che meraviglia ragazze 29,90 quindi abbiamo due pezzi abito sotto spallina fine e sopra il suo maglioncino i colori disponibili sono questo bellissimo taglio questo marrone a proposito una collana ragazze collana 18,90 color terra e poi abbiamo la versione con il grigio guardate che bellina e l'ultimo come sempre che è il nero ok? quattro colori ragazze vado a farvi vedere quello che avevamo poggiato in questo outfit approfitto per farle rivedere anche se poi le abbiamo presentate ieri però sono troppo belle questa cappottino con robertta cantinotti la bifottagno eccolo Robby per te allora dicevo cappottino con finiture in pelliccia ecologica quindi finta anche se però sono morbidissimi sembrano vere 120 160 di seno oltre 150 160 fianchi lunghezza 74 anche Moira Massari l'abito taglio te lo ordiniamo Moira allora il prezzo di questo cappottino è di 59 e 90 disponibile viola poi il beige l'ottanio e ancora il panna guardate che bello il verde smeraldo e l'ultimo che è il celeste meraviglioso un colore bello delicato molto non lo so mi piace tanto sembra una nuvola bellissimo allora io ragazzi ne levo alcuni perché sono già stati ordinati come per esempio ecco l'ottanio è già stato ordinato da crystal poi il panna ovviamente si possono ordinare senza problemi il color panna eccolo qui da Nausicaa e ancora il verde da patrizia eccoci qua ok allora questi colori che avete visto questi tre colori sono ordinabili a me qui rimane il beige il viola il celeste e per chi ne avesse bisogno si può ordinare anche il nero ok che non ho qui da farvi vedere ma è ordinabile non c'è problema ok allora ragazzi vi faccio rivedere i tre colori dell'abito che sono rimasti ovvero il marrone il grigio il nero e l'ottanio che è andato via questo abito con il suo maglioncino sopra corto 29,90 quindi sono due pezzi proseguo allora vado con un altro outfit questa volta ragazzi una cosa molto molto particolare ovvero attenzione abbiamo gilet in ecopelle guardate che meraviglia 29,90 mi fa 130 di seno lunghezza 57 130 anche di girovita non vi dico fianchi perché non è lungo ok poi sotto ah proprio eccolo qua sotto casacchina in lurex bellissima con georgette che esce sotto vedete però è attaccata ragazze non è che sono due pezzi come quello precedente guardate che bellina il prezzo della casacchina in lurex è di 24,90 le misure mi fanno 114 di vita di seno scusate 150 sui fianchi e una lunghezza di 72 e in ultimo arriviamo a questo che io non so come definirlo se una maxi maxi canotta o un vero e proprio abitino però considerate che grosso modo arriva sopra il ginocchio tessuto ecopelle elasticizzato ottima vestibilità perché considerate che di seno mi fa 120 150 fianchi mi fa 140 160 la lunghezza 90 guardate che bello ragazze è una cosa particolarissima disponibile in quattro colori rosso bordeaux il panna il marrone scuro e l'ultimo che è il nero guardate che meraviglia ragazze è una cosa sfiziosa questa è moda e andiamo vi faccio vedere le casacche invece allora i casacche l'urex dove sotto vedete esce questa questo giro di velo è disponibile chiara panna è disponibile con il nero e con il marrone bronzo tre colori e andiamo con il gilet gilet ecopelle come l'abito che ma l'abito 29 e 90 l'abito 29 e 90 come il gilet forse non ne ho anche detto mi sa che mi sono sbagliata allora dicevo anche il gilet 29 e 90 le misure abbiamo detto 120 130 seno lunghezza 57 ed è disponibile in 5 colori ovvero il marrone anche qui il panna il bianco il nero e l'ultimo che è l'ottanio ok ragazzi 5 colori per questo gilet molto molto simpatico diciamo questo è un outfit un po' di tendenza un po' particolare mi rendo conto che è un po' fuori dagli schemi però insomma ci vuole anche qualcosa di diverso di simpatico qualcosa un po' di nuovo eh sì 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 e Claudia è in ecopelle elasticizzato sia il gilet sia l'abito sono tutti in ecopelle elasticizzati dimmi allora Terri Casavecchia l'abito nero e marrone nero e marrone ok ah uno però è già ordinato quindi bisogna ordinarlo eh eccoli qua quale devo ordinare il nero il nero poi Claudia Tomezzoli vuole il nero il gilet ah no scusami eccolo Claudia il gilet nero per Claudia allora ragazzi ovviamente sono andati via li potete ordinare non c'è problema quindi qui rosso bordeaux panna nero e marrone sono andati via ordinabili nel gilet invece è andato via solo il nero che ovviamente anche questo possiamo tranquillamente ordinare grazie a te Claudia ok vi faccio rivedere velocemente anche le casacchiene dopo di che vado avanti ovvero quella bronzo quella con il nero e quella color panna ripeto un tessuto in lurex tutto brillantinato foderato all'interno in gilet e sotto a questa parte che esce fu molto molto carina allora proseguo vado avanti allora ok adesso invece abbiamo un outfit composto partiamo dal gilet smanicato versione piumino ok in 100 grammi disponibile in 5 colori nero verde militare marrone ottaneo e bianco adesso ve lo vado ovviamente a presentare meglio il prezzo è 34,90 eh non lo so Anna non so a quale ti riferisci allora sotto invece abbiamo casacca bellissima ragazze questa casacca dal collo vedete morbido prezzo 23,90 ma la cosa bella di questa casacca al di là del disegno che vedete questa arricciatura laterale il tessuto è molto bello perché assomiglia molto a un punto milano quindi molto molto particolare guardate che bella collo morbido come dicevo questa arricciatura laterale ottima vestibilità e in più abbiamo anche questo taglio asimmetrico particolare nella parte sotto guardate che bellina allora ovviamente adesso vi faccio vedere i colori e tutto quanto poi nuovissimo pantalone anche qui ritorniamo di nuovo su un punto milano qui abbiamo delle misure un pochino più grandi il prezzo rimane sempre di 19,90 però abbiamo cintura elastica e delle misure un pochino più comode infatti di vita mi parte da 80 e mi arriva a 160 fianchi da 120 a 160 lunghezza 98 ok abbiamo a disposizione di questo pantalone quattro colori grigio nero blu e tortora tortora beige che vabbè vabbè becce dai ok e andiamo sulla casacca allora la casacca dice un tessuto veramente molto molto simile al punto milano molto particolare guardate che bello bello anche questo color cioccolato meraviglioso 23,90 130 160 di seno 140 180 fianchi e una lunghezza di 86 guardate che bella ragazzi stupenda bellissima colori come dicevo cioccolato ciclamino poi nera che è da ordinare grigio scuro proprio un'antracite e ancora tortora rosso bordeaux e l'ultima ottaneo ok ragazzi guardate che meraviglia nella loro semplicità sono veramente molto molto carine ah dimenticavo la collana ragazzi la collana con il cuore maculato 18,90 l'ultima rimasta sui toni vedete del viola ciclamino bellissima molto molto particolare in ultimo vi vado a presentare anche i venditi ciclamino guarda sì ok eccola qui per te Simona la collana la piccola allora dicevo vado a presentarvi invece lo smanicato 100 grammi tessuto piumino bello caldo prezzo 34,90 130 di seno 140 sui fianchi e una lunghezza di 95 quindi bello abbondante però questo è bello anche indossato da una persona più piccina perché comunque si presta bene ve lo assicuro disponibile verde militare anche in bianco bene bianco poi ottaneo marrone e l'ultimo nero ok belli ragazze allora intanto ne abbiamo due ordinati ovvero l'ottanio per Laura e il marrone per Linda eccoci qua ovviamente li potete ordinare qui intanto mi rimane il nero il bianco e il verde militare e vado a bere un goccetto d'acqua che sto morendo di sede grazie Germana buonasera oggi pomeriggio ho ricevuto il pacco tutto meraviglioso come sempre grazie ma grazie a te Germana allora vado avanti ragazze vado a farvi vedere altro così cerchiamo di fare presto questa sera allora qui invece abbiamo guardate che carino ragazze questo abbinamento composto da maxi cardigan lungo bellissimo con tasche ovviamente in lana prezzo 24 e 90 sotto abitino in giorgette 29 e 90 disponibile in 6 fantasie e adesso vi faccio vedere allora partiamo con il cardigan dicevo 24 e 90 maxi cardigan lungo bellissimo con tasche 140 140 180 seno e fianchi lunghezza 129 disponibile senape poi in color ciclamino e il ciclamino è stato ordinato poi ciao Ornella il dove vai il marrone eccolo qui e ancora il grigio eccoci il bianco e l'ultimo che è il nero ok ragazzi quindi 6 colori disponibili compreso il ciclamino che è andato via allora per quanto riguarda invece l'abitino le fantasie sono 6 costa 29 e 90 e le misure sono 130 di seno 160 sui fianchi e una lunghezza di 96 buonasera Laura gilè in simipelle marrone e giacca tuta in velluto color ottano allora attenzione tuta ottano e che ha detto gilè marrone giusto sì marrone allora Laura confermami se ho capito bene quindi giacca tuta velluto color ottano deve essere per forza questa perché non abbiamo presentate altre poi gilè simipelle marrone eccolo credo che ci siamo dacci conferma per sicurezza ok allora andiamo con l'abito quindi benissimo perfetto allora fantasia numero uno ovviamente questi abiti sono coderati sotto quindi non vi preoccupate anche del bianco non è trasparente poi fantasia numero due guardate che belle fantasia numero tre questa più seriosa però molto molto carina poi la numero quattro guardate che meraviglia ragazze e andiamo con le ultime due ovvero la numero cinque sempre su l'animalier eccolo qua guardate che bello bellissimo questo abbinamento di colori e di fantasia e la numero questo era il cinque ragazze e la numero sei sui toni del blu blu scuro blu elettrico panna bellissimi sei fantasie diverse ripeto 130 di sera 160 sui fianchi una lunghezza di 96 quindi grossomodo una lunghezza che vi posso dire che può arrivare al ginocchio sei fantasie partendo dalla prima che è chiara bellissima la seconda animalier con i fiori ciclamino la terza sempre sull'animalier però più delicata con i fiori diciamo quasi tono su tono la numero quattro nera sempre floreale la numero cinque maculata con i fiori ottagno bellissima e la 6 sul ciao maria rita la 6 sul blu ok buonasera ragazze eccoci benissimo allora ciao saretta buonasera anche a te eh e io oggi è nato uscito saretta non è arrivato non è arrivato sì allora un attimino ragazze e vado avanti che ore so 10-20 io però un caffè lo prenderei altrimenti lo sai che io pure stasera sono stanchissima infatti vedi sto andando velocemente perché almeno cerchiamo di finire gli outfit se finiamo prima non mi dispiace affatto fefano fefano la giornata comincia molto molto presto prima dell'alba direi allora no no io no cioè mi sto a morire sonno però no dopo mi fa reazione più tardi quando non serve bello il pacco è arrivato tutto fantasticamente fantasticamente bellissimo bravo mi piace saretta allora aggettivi azzeccati allora ragazzi andiamo con casacca in lurex maculata guardate che bella abbiamo avuto un'altra versione credo la scorsa settimana o due settimane fa non ricordo dove c'era anche i dettagli in ecopelli qui invece è arrivata guardate semplice più comoda come misure però il prezzo della casacca è 19,90 ma guardate che bellina poi abbiamo la collana 18,90 euro il il chiodo in ecopelle elasticizzato 39,90 euro anche se qui mi mancano alcuni colori tipo il bordeaux mi manca il blu scuro e mi manca il nero che però sono ordinabili solo che qui i negozi in questo momento mi mancano di fatti li abbiamo anche lasciati pubblicati perché si possono riassortire e sotto la casacca chiede Francesca che tessuto è Silvia è un lurex è un tessuto non ti posso dire che è lana assolutamente no è una maglina di lurex ok il prezzo dicevo 19,90 120 160 seno perché vedete è un pochino a pipistrello sui fianchi ci fermiamo intorno a poco più di 140 e la lunghezza è 63 ok guardate che carina ed è disponibile solo questa fantasia solo così solo così eh sì poi chiodo invece schiaccia il chiodo eh chiodo schiaccia il chiodo 39,90 130 150 seno 150 anche sui fianchi lunghezza 65 bianco rosa verde meli che c'è scritto? ah Antonella Griscuoli la casacca per lei eccola Anto fatto Anto la casacca per te allora dicevo verde militare e poi il marrone e come dicevo è ordinabile il bordeaux il nero e il blu scuro anche questi tre colori e andiamo in ultimo ma che è un messi di Paola e Chiara mamma mia che angoscia e andiamo in ultimo sulla gonna plissè in ecopelle prezzo 24,90 l'abbiamo riassortita in tre colori ovvero panna marrone diciamo più che marrone biscotto e nera tre colori da 70 fino a 140 di girovita oltre 180 190 sui fianchi e una lunghezza di 80 centimetri questo si ha voglia Mary si chiude pure a Denise gli sta pure largo a Denise che sopra è molto grande assolutamente allora ragazze la vestibilità della gonna è anche anche questa bella grande i colori sono tre ovvero il panna il nero e questo colore più scuturo che vado a chiamarlo biscotto cammello ok prima ho detto marrone ma non è marrone sembra caramello eh bravo un caramello si e perché a me non mi piace il caramello a me la cifra davvero mamma mia io me ci affonderete questo me lo fanno anche a gelato caramello salato io me ci affonderei proprio davvero no invece a me non mi piace tantissimo Mayra dorme nel frattempo si finì Mayra Mary facci sapere se ne vuoi uno allora io intanto vado avanti ragazze perché come avete visto sto cercando di andare veloce per cercare di non fare tardi boh dai Sara una voglia ha ragione allora va che belle queste ok ragazzi qua invece andiamo su una casacca in lanetta guardate che bello modello a pipistrello in con il collo a V abbiamo questi gattini tutti belli brillantinati è carinissima questa diciamo la verità allora il prezzo della casacchina in lanetta comunque 17,90 poi collana con i poricini 19,90 pantalone con l'accettino in lanetta si suicidata a duda 16,90 il pantalone quella è la classica pelle morta il chiodo si può ordinare se il colore non c'è come no patti si Moira dice casacca per me intendi proprio questa viola che ho in mano Moira adesso te la diamo poi dicevo pantalone lanetta 16,90 euro e chiodo questa volta non in ecopelle ma in tessuto scamosciato da inetto tessuto lanetto è pesante beh Maria Rita quando diciamo lanetta significa che è una lana sottile perché altrimenti diventa quella lana doppia che è un'altra cosa l'altra maculata dice Moira ah ok va bene Moira quella è in lurex va benissimo fatto ok allora intanto spettate un po' tutti allora ragazze chiodo in daimetto disponibile ciclamino nero e blu scuro prezzo 39,90 bello scamosciato carinissimo 140,160 seno e fianchi lunghezza circa 68,69 ciclamino eccolo qui ecco la versione blu scura molto carino anche questo e l'ultimo con il nero eccolo qua vedete che bello anche nero molto molto carino e passiamo alla casacca in lanetta prezzo abbiamo detto 17,90 150 180 seno come dicevo leggermente a pepistrello fianchi da 130 arriviamo comunque a toccare 180 lunghezza 72 dimmi Bertarini Laura chiodo blu scuro da ordinare ok va bene eh sì è da ordinare il chiodo ma aspetta no 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 attenzione quale chiodo questo blu scuro in camoscio questo scamosciato chi era Laura 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 Bertarini mi dici se è questo qua blu scuro questo in dainetto sì 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 questo perfetto allora dicevo 150 180 seno ciao Monica 130 fino comunque a 180 anche i fianchi lunghezza 72 disponibile panna viola madonna che carina che sono queste poi verde militare bella pure verde jeans carinissima pure jeans poi otanio ma si affinano perfettamente con i pantaloni è probabile eh sì otanio no non è questa Laura no ieri era un altro tipo non mi ricordo quella di velluto velluto più piccolo ah sì Laura ieri era in velluto a costine sì 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 questo invece è in lanetta eccola qui nera e poi l'ultimo colore il ciclamino allora notavo che si può abbinare perfettamente con il pantalone in lanetta stessi colori dettici allora il pantalone costa 16 euro e 90 anche questo pantalone è nuovissimo non è quello della scorsa settimana questo se volendo guarda se tu lo abbini lo puoi creare sia sportivo che elegante perché guarda è proprio bello sì 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 vero mi scusi se l'ho interrotto ma no ma si figuri grazie arrivederci buonasera buonasera arrivederci anche a lei allora divita da 100 a 180 quindi cede tantissimo fianchi parte invece già morbido da 140 e arriva oltre i 180 abbondanti lunghezza 103 ok come dicevo abbiamo gli stessi colori della casacca quindi vedete potete fare l'abbinamento con il nero così ve li faccio vedere tutte e due potete fare l'abbinamento con questo panna tortora vedete una via di mezzo tra il panna e il tortora anche il viola guardate bello con il viola pure bellissimo poi ancora il verde militare eccolo qui e ancora anche jeans è bello su questo modello guardate che carino anche jeans come abbinamento franca cazzato pantaloni e casacca con l'ottanio va benissimo ecco io vi sto per presentare proprio ora eccolo qui con l'ottanio allora attenta perché qua c'hai questo ordinato già e l'ultimo completo che è con il ciclamino è inutile dire meraviglioso bellissimo guardate come come sono ben in risalto i disegni il completo ottanio anche per carla piera spotty ragazzi questi sono bellissimi ripeto potete fare sia il completo sia acquistarli separatamente però quando si ha la fortuna di avere il completo così già pronto è bello e favoloso allora laura 19 90 aspetta laura perdonami allora 17 90 la casacca e 16 90 il pantalone ok quindi che ti devo dire grosso modo sei 35 euro tutto quanto più o meno occhi e croce ciao Rossella salutata fatte ciao Carla ha anche quello nero vuole va benissimo Carla eccolo questi sono bellissimi a me piace tanto anche quello con il viola bello belli tutti perché comunque è particolare con questo disegno con questi brillantini questi due micetti sì eccolo guarda che bello Laura bellissimo eccolo te lo do Laura allora Maria Rita Fulco invece il completo nero che è da ordinare ti e il verde militare che ce l'ho eccolo pure verde militare bello ragazzi fate uno sforzo anche il viola è meraviglioso sforzatevi sforzatevi Silvia il gilet e copelle nero e gonna nera e copelle stanno bene indossate insieme direi proprio di sì assolutamente se vuoi te lo faccio vedere me lo dirai che c'hai tu lì ti faccio vedere però Moira ovviamente sì Laura ha confermato come fa a stare male guarda e copelle entrambi bellissimo bello 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 sotto magari ci metti la casacca quella che hai preso prima in lurex maculata nero e oro fai questo abbinamento è bellissimo facci sapere Moira se te li dobbiamo dare i gilet con con la gonna plissi ok allora io nel frattempo vado a far vedere un'altra cosina allora te li ordiniamo allora ma ti ordina il gilet a Moira e la gonna nera cioè la gonna nera ce l'abbiamo il gilet di copelle nero e lo dobbiamo ordinare il prezzo del gilet sabina è 29,90 quello che è appena passato in ecopelle se li trovo te li faccio rivedere che li sono sfuggiti eccolo qua c'è pure marrone no? giusto? sì eccolo qua sabina 29,90 ecopelle elasticizzato panna bianco ottaneo poi nero e marrone 130 di seno lunghezza 57 non dico i fianchi perché ovviamente al fianco non arriva arriva diciamo poco sotto il giro vita ok? ok? e per metto bottoni piccoli anche il panna sabina eh leggermente sì nero lo vuole no era? no ok allora ragazzi adesso invece volevo farvi vedere volevo farvi vedere questa maxi tuta che ha indossato tranquillamente anche Denise perché è molto comoda nelle misure è elasticizzata l'elastico dietro molto carina ragazze guardate che bella con questi tre bottoni davanti questo taglio particolare il prezzo è di 35,90 è bella per una serata per una cerimonia per qualsiasi cosa e adesso vi dico le misure allora considerate che qui siamo intorno ai 130 di seno 160 sui fianchi lunghezza circa 132 abbiamo a disposizione il blu scuro vedete come sono fatte dietro il bordeaux guardate che bella anche con il nero dove risaltano molto i bottoni il tortora bella anche tortora ragazzi e l'ultimo colore color cacao eccola qui bellissima ragazzi qua ci mettete sopra un bolerino una pelliccetta uno spolverino quello che preferite noi abbiamo proposto la pelliccia che abbiamo fatto vedere ieri versione nera e anche la versione chiara l'abbiamo presentata ieri ragazzi questa costa 99 euro tutta impellicciata meravigliosa bellissima le misure sono 140 156 150 160 fianchi lunghezza 89 morbidissima veramente ragazzi sembra vera 99 euro versione nera e poi la trovate anche pubblicata nella versione panna bellissima la pelliccia di quella panna è tutta sfumata vero non è tinta unita bella particolare ok poi se qualcuno proprio vuole vederla andiamo a prenderla di là però ecco l'abbiamo presentata anche ieri per quello ci siamo permesse di far vedere soltanto un colore allora proseguo allora vado avanti ragazze con un altro outfit questa volta allora partiamo da questa collana torcione bella grande 18 e 90 ragazzi disponibile in vari colori molto molto particolare poi la levo perché se no non si vede tantissimo la maglia allora la maglia ma che tessuto è? sembrava tipo panno è una via di mezzo tra lana e panno esatto ragazzi comunque parliamo di una casacca già invernale adesso lo presentiamo adesso lo prendiamo sì perché già lo stanno chiedendo in diverse persone ciao Lina adesso al prossimo giuro che lo trovo magari mi prendi pure il pantalone suo fare il completo così sì allora ragazze 24,90 questa casacca tutta bella brillantinata guardate che meraviglia ripeto tessuto pesante una via di mezzo tra lana e panno per farvi capire e sotto nuovissimo leggings esatto è una lana pannosa sì è vero è un tessuto particolare è duro la chiameremo così vedi se la devo ordinare la chiamo così e leggings in pile ok belli caldi invernali allora vado con la con la casacca brillantinata allora dicevamo il prezzo è 24,90 guardate che bella pure con il bordeaux carinissima 140 180 di seno un pochino più abbondante sul seno ciao giusi 120 160 fianchi lunghezza 70 quindi vestibilità ottima allora bordeaux nera guardate che bellina anche con l'ottanio color cammello e l'ultima bianca biancolatte proprio guardate che bella ragazzi sembra un po' modello tipo felpetta vedete lo stile l'elastico sotto il polzino eccetera e poi andiamo con i leggings in pile quindi bello invernale bello caldo perché ama insomma vuole già qualcosa di caldo 19 90 le misure qua sono ottime perché di vita partiamo da 100 e si estende fino a 160 fianchi invece parte da 120 e arriva oltre 160 la lunghezza 98 allora qui mi manca il nero ma si può ordinare abbiamo il viola il verde smeraldo il grigio e poi ripeto il nero da ordinare l'ottanio ciao Isabella il bordeaux il verde militare e color mattone ok no perché no mattone ruggine eh ruggine mattone ruggine va bene tu ne hai messo un mattone ruggine i mattoni non che hai fatto io stavate cadendo che è successo no stava a casca tutto come fa a casca tutto è perché ho dato una botta forte ah vuole sbraga tutto quanto chiudevamo la diretta per abbattimento no mi preoccupava ripagare il monicto più che altro allora adesso vi faccio vedere il mio completo ragazze a trovarlo questa non è un ruggine mattonata smetti la Giorgia eh sì infatti ma questo lo ricetto vabbè se faccio il suo giacchetto come regolo allora ruggine mattonata sì 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 me l'ha detto Isabel grazie esatto sarettà che ha detto i colori di sibia mi mancavano vero lo so lo so ma stasera sono un po' stanca quindi non sto dando il meglio di me con i colori quando era mercoledì scorso no martedì martedì mercoledì sì hai fatto il meglio del meglio sì sì sarete invece a me sai che mi è mancato le tue ricevute perché tu già sai perché tu già sai sarà ora ti scrivo il numero mio in privato così me li mandi la mattina la mattina quando mi sveglio ah sai che bella Marilena Gotti la maglia nera ah ok eccola Marilena eccola qua ok allora ragazze finalmente siamo arrivati al mio completo allora attenzione però perché perché mentre della felpa abbiamo circa tre cinque sei colori per quanto riguarda il pantalone invece in realtà ma non manca un colore là di che di questo pantalone non sa che erano tre aspetta prova un attimo a vedere c'è un dubbio allora dicevo i pantaloni in realtà sono solo colori basici allora la felpa costa 22 euro e 90 ed è il famoso tessuto muta bello morbido morbido come il completo che abbiamo visto in inizio diretta anche se quello era molto grande insomma però il tessuto lo stesso bellissimo comodo ragazzi è favoloso veramente si indossa che è un amore allora il prezzo abbiamo detto 22,90 120 160 seno e fianchi infatti vedete è morbido lunghezza circa 68 69 disponibile nera blu scura poi con il marrone il tortora il rosso bordò e il panna eccole qua ragazzi per chi me le stava chiedendo sono queste niente questi tre mi sembrava infatti allora adesso per chi l'ha chieste e non le compra tiziana quella si arrabbia io guarda che quella c'ha sonno volendo a casa quindi allora dicevo il pantalone invece costa 19,90 stesso tessuto della felpa 80 120 di vita da 100 oltre 140 fianchi lunghezza 100 si Maria Rita Denise in realtà l'ha indossata ieri perché queste le avevamo fatte vedere ieri per quello siamo andati a recuperarle allora il pantalone è disponibile solo in quattro colori ovvero marrone scuro nero panna e blu scuro solo quattro colori per il momento poi non so se ne arriveranno degli altri mentre come vedete la felpa ne abbiamo qualche colore in più insomma c'è il bordeaux c'è il torto la lunghezza chiede Ione di che cosa? della felpa? la felpa 68 69 la lunghezza la lunghezza invece del pantalone 100 come vedete infatti non è lunghissimo però sapeste quanto è comodo questo completo veramente tanto tanto mi garba assai ma è proprio comodo questo tessuto io non l'avevo mai indossato vabbè forse perché gli altri anni non è che c'era molto c'era sui giubbottini su determinate cose allora Ione prende la tuta nera la tuta nera ok eccola qui per Ione va benissimo poi ti faccio vedere quello che avevamo abbinato noi sotto ma che l'hai levato ma? chi? tu che pantalone ci avevi abbinato l'ho detto quello di viscosa ah ok vabbè allora lo vogliamo far vedere perché c'è i colori uguali rispetto alla casacca dicevo facciamolo vedere quanto siamo qui ragazzi noi avevamo abbinato anche questo pantalone modello un po' a palloncino come lo chiamiamo noi a uvetto perché si abbina molto bene comunque su questo genere come stile eccetera il prezzo del pantalone ovetto è di meno chiedono di vedere il completo in marrone marrone però non è uguale non è uguale il marrone ragazze anche se però ci sta benissimo perché vedete anche sopra abbiamo varie sfumature questa è la versione con il marrone poi c'è la versione con il panna e nero chiaramente è uguale ed è uguale anche il blu al pantalone anche il blu è identico allora per quanto riguarda il pantalone invece a uvetto il prezzo è 19,90 grandi tasconi davanti anche questo bello comodo 80,120 di vita pantalone marrone per Sara ok fatto saretta allora dicevo pantalone uvetto 80,120 di vita da 120 a più di 130 sui fianchi lunghezza 95 19,90 qui abbiamo il bordeaux il blu scuro poi il grigio il marrone bruciato e l'ultimo che è il nero ok eccolo qua ci siamo ok va bene Maria Rita poi facci sapere sono pubblicate anche le foto eh Maria Rita quindi puoi vederlo anche in foto senza andare a cercare la diretta di ieri allora intanto va avanti allora proseguo con abito carinissimo ragazze anche qui ritorniamo su un tessuto di lanetta come vedete a costine però non è velluto ragazze semplicemente vedete a righine tutto brillantinato molto molto carino con questo collo morbido manichina lunga guardate che bello prezzo di questo abitino è di 23,90 poi collana 17,90 guardate che bellina anche la collana abbinata i colori dell'abito in realtà sono 4 ma andate si è staccato sono 4 perché manca il nero ma si può ordinare intanto vi do le misure che questo sembra piccolino ragazze ma in realtà di seno parte da 80 e arriva a 140 fianchi da 100 a 160 la lunghezza 89 è bellissimo veramente ragazze allora disponibile tortora grigio guardate che bello anche panna e poi in nero la maglia con i cattici è grigia credo di sì te lo dico subito lina è finita è scappata è scappata i gatti è scappata davvero eccoli là in mezzo no non c'era grigia no lina grigia non c'era panna c'era questo questo colore qui lina una sorta di tortora però grigio no perché c'era nera color jeans verde militare ottagno poi c'è questo colore c'è il viola e il ciclamino lina di tora vestito panna e grigio ok panna e grigio per lina la collana bellissimi questo eccolo qua per lina di tora ok dimmi lina se vuoi un completo se vuoi uno di questi colori che ti ho detto però la grigia non c'è proprio vediamo che dice allora ragazze non vi ho fatto vedere quello che avevamo poggiato sopra questo abito in realtà questo capo volevo metterla con i pantaloni grigi no lina magari spezza con il colore se hai i pantaloni grigi mettila nera mettila che ne so che colore che c'è sta lì con il pantalone grigio no in realtà solo il nero vedo di queste solo nera vuoi vederla nera lina tante volte ti piace dimmi tu allora dicevo intanto capo cosa ho lasciato io ah l'ho ascoltata allora cappottino la vuole vedere nera lina te la faccio vedere lina se ti piace me lo dissi te la prenotiamo eh infatti guarda che bella questa ovviamente nera così sul pantalone grigio sta benissimo fammi sapere se la vuoi te la mettiamo te la ordiniamo allora dicevo cappottino bellissimo con l'interno colorato troppo carino ragazze un po' velo setta guardate che bello prezzo 49,90 con i pantaloni grigi anche se si può mettere nera con i pantaloni grigi certo si lina si metti la maglia nera con i pantaloni grigi certo assolutamente allora dicevo quindi cappottino ragazze un po' pelosetto molto molto bello 49,90 130 di seno 140 sui fianchi lunghezza 70 non la capisco ah for lina io non ti sto capendo abbi pazienza volevo eh volevo anche i pantaloni ma sempre neri perché grigi non ci sono comunque neanche i pantaloni quelli là perché i colori si abbinavano tutti quindi non avevo non ho il pantalone grigio se vuoi il pantalone nero e fai tutto nero ok però il pantalone grigio non ce l'ho allora ragazzi lina forse non ti va la connessione ma se sia così perché vabbè le hai fatti vedere prima pantalone largo grigio ma lina io ho fatto vedere un pantalone parli Giorgia dice forse parla dell'ovetto ah forse largo intende così ascolta lina ma questi intendi dimmi se sono questi lina se sono questi comunque vale lo stesso discorso cioè sempre che la maglia nera col pantalone grigio sta benissimo che colore Ione è Ione però aspetta perché sono vari colori allora c'è si dice ok quindi questo glielo diamo a lina e la maglia glielo abbiamo ordinato è Ione e il beige ah il beige ok allora eccolo qui beige per Ione cosa devi ordinare il proprio parola in lina solo la casacca con i gatti neri e basta poi ecco qui la versione con il nero vedete l'interno ragazze guardate che bello poi la versione panna bianco panna guardate che bellino molto molto bello ovviamente è caldo eh parliamo di un cappottino e poi questo che è il mio preferito ragazze guardate che meraviglia grigio stupendo su questo si nota proprio la lavorazione del tessuto sembra un po' tipo nito tape questo 40 aspettate 49,90 le misure approfitto le ripeto 130 di seno 140 sui fianchi lunghezza 70 e il prezzo 49,90 e il prezzo 49,90 io non so perché stasera ho la cura secca hai mangiato oh mi ricordo pesce vado? vado? vado tutto tace? a parte che Barbara stava di qua Barbara fammi sapere se vuoi uno dei colori che abbiamo fatto vedere allora continuiamo intanto eh manco noi capiamo niente allora ragazzi andiamo avanti qui una cosa meravigliosa troppo bella ragazze maxi maxi maglione non so che colore e il barbara Barbara sono tutti belli bello a me piace tantissimo questo con il grigio bello anche chiaro bellissimo che ti devo dire altrimenti devi andare sul basico nero però io sinceramente andrei o sul grigio che comunque lo abbini perfettamente anche con il nero oppure chiaro pure che è bellissimo allora ragazze vado avanti dicevo maxi maglione con il cuore bello dorato in lurex meraviglioso prezzo 22,90 è un maglione a pipistrello brava Barbara ottima scelta mio preferito eccolo Barbara allora dicevo maxi maglione 22,90 inutile che vi do le misure perché guardate quanto è grande bellissimo però questo non è che per indossare questo voi dovete avere una taglia 60 64 questo è bellissimo anche per una persona più piccola perché è proprio il modello che va portato molto grande molto abbondante tant'è vero abbiamo il braccio vedete è più stretto tutto a pipistrello e questo grande cuore davanti proprio bello quanti colori 6 colori disponibili poi sotto abbiamo abbinato invece pantalone con cintina fina tessuto panno ma bello caldo prezzo 19,90 adesso poi vi do le misure allora intanto vado che bello pure il bordeaux allora vado con il maglione siamo oltre i 180 190 se nel fianchi vi do la lunghezza che è di 85 guardate che meraviglia ragazzi bellissimo ripeto non dovete essere grandissime per ordinare questo modello questo è proprio largo come come stile ok allora bordeaux poi panna guardate che bello anche bianco con il cuore oro bello poi grigio rosa in palla beige beige va finissimo eccolo per te rosa no beige lo vuole che brutta abbattuta ah è stata di marmellata beige poi blu scuro bello anche blu con grigio bellina eccolo lina ovviamente si possono ordinare ragazzi è andato via il beige il grigio poi guardate che meraviglia anche marrone bello marrone con il cuore oro è proprio bello e l'ultimo colore siamo arrivati alla fine che è il nero bellissimo allora 22 e 90 questo maxi maglione con il cuore dorato poi andiamo con il pantalone pantalone in panno con cintina mi fa da 80 a 120 di vita poco più di 130 sui fianchi e una lunghezza di 98 prezzo 19 90 anche questo è bello caldo perché ripeto è un panno quindi invernale disponibile color panna bianco poi guardate che carino anche grigio nero e l'ultimo marrone bruciato un marrone proprio scuro allora alcuni sono stati già ordinati quindi il grigio e il nero vanno via se c'è qualche pianto che lo vuole lo possiamo ordinare ok benissimo allora intanto vado a far vedere un'altra cosina ciao saretta mi dai il maglione beige con il cuore va bene te lo ordiniamo Sara che è appena andato via te lo ordiniamo allora intanto proseguo con questa bellissima gonna ciao Deborah allora bellissima gonna così di velo ragazze guardate che bella ovviamente sotto però c'è il suo sotto gonna quindi assolutamente non è trasparente il prezzo è di 24,90 guardate che meraviglia morbidissima poi sopra abbiamo abbinato questo maglioncino a pipistrello con le con le frange molto molto carino diciamo è un cardigan però siccome che vedete scollo a V chiuso lo potete portare anche da solo altrimenti indossato aperto sbottonato magari con una camicia sotto una canotta qualsiasi cosa voi volete indossare 23,90 il cardigan pipistrello con frange e 24,90 la gonna bellissima di velo allora per quanto riguarda il cardigan la gonna presa veramente ah ah bella si allora seno 180 lunghezza 65 ok colori qui manca il nero che colori mancavano? nero e bianco allora abbiamo il panna il cacao guardate che bellino anche jeans grigio e poi nero e hai detto e bianco che si possono ordinare andiamo con la gonna guardate che spettacolo ragazzi troppo bella allora la gonna mi va da 80 fino a 124 di vita fianchi da 150 fino a oltre 190 lunghezza 98 abbiamo di 5 fantasie ovvero la numero 1 guardate che meraviglia ragazze la numero 2 molto molto bella poi la numero 3 ecco la numero 4 grazie Giorgia guardate che bella anche la 4 io non saprei quale scegliere sono la più carina di qua e l'ultima sul maculato la numero 5 anche questa bellissima vedete all'interno c'è anche un po' di marrone stupenda ovviamente qui siete liberi di noi ci abbiamo abbinato un maglioncino cardica ma qui potete mettere anche una camicia in raso una canotta cioè veramente potete giocare in tante maniere con questo tipo di gonne perché la gonna la potete rendere sportiva o elegante allo stesso tempo in base proprio a come l'andate ad abbinare io ho presa no infatti Moira te lo stavo per dire tu l'hai presa in raso perché queste sono le prime che sono arrivate così di velo invece quelle che avevamo qualche giorno fa qualche tempo fa erano in raso in raso elasticizzato belle anche quelle fantasie molto simili ma in realtà questo invece è un altro un altro tessuto insomma molto morbido e molto bello anche questo ok allora ragazzi intanto sono dieci e mezza pensavo che finivamo chissà quanto tempo prima invece ma questo è da solo cioè era dell'outfit di prima allora lo faccio vedere così ragazzi per chi non l'ha visto presentato ieri abbiamo lo faccio rivedere anche oggi visto che è una novità abbiamo presentato il 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 maxi giubbotto diciamo che sarebbe una felpa però chiaramente è molto pesante secondo me utilizzabile proprio come giubbottino il prezzo è di 29,90 come vedete tessuto teddy ti ricordi quando chiamavamo una volta pecorella pecorella smarrita a noi allora quattro colori disponibili 29,90 il prezzo 130,160 seno e fianchi lunghezza 72 disponibile questo bellissimo ciclamino color panna il nero e l'ultimo colore questo marrone bruciato scurissimo ok quattro colori ragazzi quindi 130,160 seno idem per i fianchi lunghezza 72 giubbottino teddy 29,90 potrei vedere quella gonna con la maglia tortora con i gatti allora è questa con la quale però Rossella quale quale con la forse è quella che ha il tortora dentro giubbotto teddy ciclamino per Laura Bertarini ok eccolo teddy nero per sala poca terra ok devi ordinare perché uno già sarà anche per Tamara cioè allora dove sta la cosina tortora dove si è andata ecco 29,90 allora non so su quale fantasia volevi vedere l'abbinamento io lo appoggio qui eccola questa è la gonna numero 1 oppure sulla gonna numero 2 non so su quale sinceramente volevi vedere l'abbinamento si ha detto questa ha detto sì questa ok facci sapere se se le vuoi Rossella dice la scusa le misure del teddy adesso te le dico Rossella Marchese dice la numero 2 ah quindi era la seconda che le ho fatto vedere ok allora dai intanto me la perdo sta ok Rossella eccolo qui l'abbinamento è di Silvia è roba tua ok ah le misure del teddy chiedevano allora lina 130 160 seno stessa cosa per i fianchi arriviamo a 160 lunghezza 72 sono belli grandi e anche belli pesanti allora beige marrone ciclamino e nero per il momento 4 colori sono quelli arrivati poi non so se più avanti nei prossimi giorni ne arriveranno altri fammi sapere lina se ne vuoi uno ok allora io intanto vado avanti ok allora ragazzi proseguo con cappotto nuovissimo in panno 29,90 con lina lo vuole marrone ok fatto lina preso allora dicevo cappottino nuovissimo con vedete la greca davanti guardate che bellino eccolo qui abbiamo a disposizione 5 colori sì sì Antonella fatto grazie il prezzo 29,90 qui ne vedete solo 4 manca il nero che si può ordinare poi sotto abbiamo fatto questo abbinamento guardate che carina casacca in ciniglia con la finta camicia il finto collo sopra e finta camicia sotto il prezzo di questa casacca è 19,90 e il tessuto come vedete un po' lucido è in ciniglia ok una ciniglia rasata però sottile diciamo allora andiamo vedete prima di tutto il cappottino per chi magari ieri non ci ha seguito non l'ha visto allora cappotto con rifinitura all'interno maculato 29,90 taschine vedete questa greca qui davanti il chiodo in zainetto ah vabbè ha le maniche elastiche mi puoi far vedere quanto si allarga le maniche elastiche oddio dove è finito il chiodo zainetto ma vedi tiziana eccolo non quanto si allargano il tessuto è elastico tizia altro non ti so dire però vedi non è piccina la manica vedi fammi sapere allora ragazzi quindi cappotto verde militare marrone poi in grigio in panna e nero da prenotare poi per quanto riguarda invece la casacca si si tranquilla abbiamo capito allora per quanto riguarda invece la casacca ciniglia con le rifiniture maculate 19,90 molto carina 120,160 seno sui fianchi invece ci fermiamo a 150 lunghezza 77 disponibile rosso bordeaux poi nera le misure scusa non ho capito il cappotto adesso le dico non ti preoccupare lina nera bella nera guardate che carine che sono queste ottaneo bene poi blu scuro e ancora marrone e l'ultima con il grigio ok allora le misure del cappotto sono 130 170 seno 150 fino a 180 fianchi lunghezza 95 e sono 5 colori perché qui manca il nero però si può ordinare tranquillamente allora saretta sarà consiglio maglia nera ok ah ragazzi il costo del cappotto 29,90 lina e la collana che non vi ho fatto vedere invece è molto molto carina 19,90 eccola qua per terza letta lina il cappotto 29,90 mentre invece la casacca con le rifiniture maculate 19,90 grigio per lina eccola eccola qua allora poi mamma mia sto morita sonna allora pantaloni ragazze particolarissimo con questi bottoni davanti questo dettaglio qui cernierina laterale modello se vogliamo a sigaretta quindi va giù dritto abbiamo due misure la misura piccola e la misura grande allora la misura piccola mi va da 80 a 110 di vita fianchi da 100 a 150 e la lunghezza 98 mentre invece il curvi mi va da 100 a oltre 130 di vita fianchi da 120 a oltre 160 lunghezza 102 ok il prezzo 29 e 90 e abbiamo a disposizione quattro colori ovvero il biscotto il grigio il marrone tutta ce l'ho girato che hai fatto il marrone 39 e il nero quindi se vi piace questo pantalone guardate che è molto molto carino diteci se lo volete nella taglia grande o nella taglia piccola e ovviamente anche il colore fammi sapere se te lo devo prendere Tiziana ok perfetto allora io vado avanti che siamo quasi agli sgoccioli ok che ce l'hai? sì il chiodo nero? sì ma parliamo sempre di quello che hai netto giusto? sì sì allora sì ok allora ragazzi poi andiamo avanti con un altro outfit composto da casacca in licra collo come vedete diciamo coreano scollo a V senza bottoncini tessuto bello elasticizzato perché la licra comunque è bella elasticizzata il prezzo è 19,90 e abbiamo sette fantasie sotto abbiamo abbinato una novità l'abbiamo fatta vedere ieri ma ci tengo a farla rivedere perché sono i primi giorni pantalone modello a zampa vedete largo sotto in ecopelle elasticizzato e la vestibilità è grande cioè veramente stracomoda e adesso poi dico le misure quindi mi rendete conto da sole allora intanto vado con la casacca allora 120 160 seno e fianchi lunghezza 70 ok 19,90 il prezzo la numero 1 è maculata la numero 2 sui toni del blu poi la numero 3 vedete base nera con questi fiori beige panna marrone la numero 5 e poi ancora la numero 6 e finiamo con ah la 4 mi serve vabbè ragazzi ho saltato un numero non mi sono resa conto la numero 4 sui toni del blu e l'ultima che è la numero 7 eccoci qua queste sono le 7 fantasie ragazzi di questa casacchina in licra scollo a v coreana comunque bella morbida ottima vestibilità perché abbiamo detto da un 120 a un 160 sia di seno sia di fianchi un tessuto bello morbidoso chiaramente la licra che c'è ora non è più quella estiva cioè ci tengo a precisare che se andate a toccare questa licra di adesso autunnale rispetto a quella di qualche settimana fa completamente estiva si nota molto la differenza cioè questa comunque è più doppia è più pesantina ok questa d'estate questa qui uno non ce la farebbe a metterla a indossarla allora andiamo poi sul pantalone a zampa allora il pantalone a zampa in ecopelle prezzo 17 e 90 andiamo da 80 fino a 180 di vita fianchi da 120 andiamo oltre i 170 abbondanti lunghezza 104 ok questi sono comodissimi ragazze veramente comodi comodi allora disponibile da ordinare nero poi il verde militare il panna e ancora il bordeaux non è che manca qualche colore oltre al nero il verde bottiglia solo nero il verde bottiglia e gli ultimi due che sono il ciclamino e l'ultimo che è l'ottanio tutti molto belli ragazzi ma soprattutto ripeto è la vestibilità che è favorosa chiaramente potete fare anche degli abbinamenti diversi guardate che bello per esempio così la casacca numero 7 con il pantalone a zampa panna tanto per darvi un'idea potete fare per esempio che ne so anche vediamo un po' che si può fare si può fare anche così ottanio per gallini il pantalone eccolo ce l'ho in mano eccolo l'ottanio anche così per esempio eh che bello bella pure così poi chiaramente col pantalone nero che non ho qui da farvi vedere si potrebbe girare quasi su tutte le casacche praticamente col completo con quel gilet in pelle eh sì come l'abbiamo pubblicato vero 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 allora Anna Di Paola maglioncino cuore bianco più pantalone bianco Silvia mi dici le misure cortesemente più il prezzo grazie pantalone bianco quale intende però questo allora il maglione 22 e 90 le misure siamo oltre i 180 190 seno e fianchi e per quanto riguarda il pantalone se è questo in panno 19 e 90 le misure sono da 80 a 120 di vita 130 abbondanti sui fianchi lunghezza 98 quindi Anna Di Paola confermami se li vuoi se vanno bene o meno anche perché i pantaloni bianco no c'era solo questo Anna facci sapere così te li mettiamo da parte ok continuiamo siamo veramente arrivati alla fine allora casacca ciao franca come se a tutte mi sembra camicia la 4 mi sono persa i numeri te la faccio rivedere allora guarda questa è la 1 franca maculata questa è la 2 blu la 3 poi la 4 la 5 e la 6 confermami qual è la tua ah è pure la 7 scusami e la 7 allora Valentina Angeloni dice che vorrebbe il tuo completo se gli puoi ricordare i prezzi eh una parola dove si sta il mio completo il pantaloni non ce l'ha un'altra e la felpa che era 23,90 allora la felpa 22,90 il pantalone 19,90 ok Valentina hai sentito 22,90 la felpa 19,90 il pantalone confermami che colore si nero perché lei aveva chiesto anche il marrone quindi però il marrone non concideva Franca dice la 5 mettici il numero mairetta ok eccola qua per Franca la 5 ah ti do anche la 1 per la ordinata nero dice nero ok glielo ordiniamo ok perfetto ragazzi allora dicevo casacca doppia ovvero abbiamo la casacchina sopra in diciamo cotone pesante ok un cotone leggerino estivo e sotto la sua camicia tutta fiorata molto molto carina ragazzi quindi sono due pezzi il prezzo è di 24,90 casacca con camicia abbiamo tanti colori disponibili vi dico subito il prezzo che è 24,90 le misure 136 di seno e di fianchi lunghezza circa 70 le misure che vi ho detto ragazzi si riferiscono alla camicia sotto che è in cotone mentre invece la casacca sopra in realtà essendo un tessuto molto elastico in realtà cede molto molto di più ok allora i colori disponibili sono il bordeaux il mattone il prugna poi il grigio il blu il panna e gli ultimi che sono l'ottanio il verde militare e il nero che è l'ultimo proprio questo che si è smontato tutto di paolana dice la maglia si ok va bene si vede che probabilmente il pantalone è piccino ok eccola Anna ok benissimo allora poi passiamo al jeans allora il jeans con la catena allora ragazzi ricordate che questo è il jeans in tessuto più autunnale perché noi avevamo la versione leggerissimo fino 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 che era quello estivo qui siamo arrivati alla versione autunno inverno sempre con catena le misure qui ah no il prezzo è 24 e 90 la versione invernale allora abbiamo la doppia misura ovvero versione curvy e versione small allora il curvy mi va da 80 a 150 di vita fianchi da 120 a oltre 160 la lunghezza 107 per quanto riguarda invece lo small mi va da 70 a 130 di vita c'è da 120 a 140 fianchi lunghezza 103 quindi due versioni grande e piccolo allora intanto uno grande ce l'abbiamo già ordinato quindi vediamolo eccolo qui allora il prezzo del jeans con catena 24 e 90 ora alla fine sbrigate sbrigate siamo arrivati comunque alle 11 no fermiamoci dai tanto quello l'abbiamo fatto vedere quindi non c'è bisogno ci possiamo anche fermare anche perché non ce la faccio più veramente moira massari small ok fatto moira ragazze se c'è qualche un altro che vuole il jeans con catena basta che ci specifica se versione grande oppure versione piccola casacca come la tua costo 22 90 laura l'abbiamo fatta vedere prima 22 90 ok ragazzi siamo arrivati quasi alle 23 domani comincia un nuovo giorno lungo pesante figli casa e lavoro diciamo la verità siamo tutte e tre morte stasera ecco a Narita già c'è da buonanotte allora ragazzi a parte gli scherzi vi auguro una buonanotte vi ricordo che domani jeans curvy per Saretta eh aspetta aspettate ragazze stavo salutando ma arriva qualche messaggio allora jeans curvy per Sara consiglio Giorgia Fiori vuole il completo muta grigio per me quello che è tutto il completo quello da 44 e 90 ah ok e cate e jeans ascolta Giorgia mi confermi che era uno dei primi giusto cara ma era che cosa confermami di Giorgia curvy che cosa Sara Saretta Sara consiglio 24 90 era curvy si si il curvy vuole lei per Giorgia confermato si allora ragazze se volete aggiungere articoli al vostro ordine o cominciare un nuovo ordine perché magari non avete fatto in tempo eccetera non vi preoccupate mandateci le foto gli screenshot della diretta quello che preferite direttamente al numero whatsapp prima possibile vi risponderemo senza problemi ragazzi io vi auguro una buonanotte vi ricordo che domani siamo in diretta di pomeriggio come al solito alle 16 e 30 non mancate mi raccomando sapete che il giovedì è una giornata di fuoco ciao ragazzi buonanotte a tutte un bacione ciao ciao